Ciao ragazzi, sono MicoDF3 e iniziamo qua un nuovo video Vi volevo solo dire una cosa Che forse inizierò a registrare O con questa O con questa qui Aspettate, che fa anche così Aspettate Così Direi che potrebbe andare bene O con Questa qui dovrebbe essere meglio Però non lo so Penso che va bene, lo trovate in casa mia Questa qui Questa qui dovrebbe andare bene Ok, vi volevo solo dire Questa cosa E Niente, se vi devo dire qualcosa altro Andatevi a vedere L'unboxing che ho fatto di queste Aspettate due secondi Ok Di queste cofie qui che ho ora E niente ragazzi Per questo Piccolo vlog Per annunciarvi Per annunciarvi di questa qui E questa qui non sono tanto nuove Però potrebbero andare E niente ragazzi Per questo Video piccolino È tutto Ciao Ciao Ciao